E sicuramente abbiamo cominciato un po' in Sordina, poi piano piano abbiamo capito le nostre potenzialità e settimana in settimana abbiamo capito come potremmo dire la notte in questi campionati e adesso abbiamo una squadra fortissima, un po' di cosa. Ciao Gigi, grande! Grazie a tutti! Federico, invece in due parole, un pregio di un difetto di questo sparo? Fabio, passa, passa e lo saluti. E sicuramente un pregio di questo sparo? Ciao Panta! Grazie, Fabio! Eccolo! Eccolo qui! Grazie a tutti! La parata più difficile di questa stagione è stata la parata 79-1! Eccolo Giacentro! Eccolo Giacentro! Eccolo Giacentro! Sospendiamolo! Sospendiamolo!